Il Cavalio United può vincere se sa sfruttare i momenti favorevoli. I metelliani sabato scorso hanno fatto risultato pieno per la quarta partita iniziale nel campionato di calcio di seconda categoria Girone H, 12 punti e si trovano momentaneamente davanti a tutti. La squadra ha infatti vinto per 2-0 a Casignano sul campo del Guido Cuore di Rocca, con i gol realizzati da Risi e Russo tutti e due nel secondo tempo. Nel primo tempo lo United aveva avuto anche delle occasioni precedenti per poter fare gol, anche abbastanza importanti, ma il Guido Cuore di Rocca si era giocata alla pari con gli avversari più quotati. Nel secondo tempo la squadra di Longino è stata più determinata e ha verticalizzato continuamente, creando in questo modo le premesse per i due gol che qui avete visto, prima Risi e poi Russo per il 2-0 finale. Con quattro partite lo United ha segnato ben 20 gol, 14 dei quali nelle due partite interne che ha disputato, quindi squadra molto spettacolare in casa e cinica quanto basta in trasferta. Sempre nella quarta giornata, sabato scorso, al campo di San Pietro, frazione di Cava dei Tirreni, il Cava 2000 ha raggiunto la prima vittoria del campionato, battendo 1-0 la Longobarda Salerno con il gol di Romano. Il terreno di gioco favorisce in pratica il gioco fisico della squadra di Cava, che spera di puntare sul fattore casalingo. Domenica mattina alle 10.30 il Cava 2000 affronterà una dura trasferta a Giffoni-Vallepiana contro lo Sporting, che ha 7 punti contro i tre dei cavesi. Invece il Cava United, che in settimana ha dedicato un post alla memoria del massaggiatore della cavese Ugo Russo, scomparso l'altro ieri, sarà impegnato sabato appregiato con il Siano Calcio, che al momento ha solo 5 punti. Sarà quella la prova del 9 per dimostrare se la formazione di Longino, attualmente in testa con due punti di vantaggio sul Vietri-Raito, merita il primato. Cava United e Siano comincerà alle 14.30.